Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale, oltre a rappresentare un segno di importanza immenso, ci aiuteranno a fornirvi, sette giorni su sette, informazioni sempre gratuite. Grazie di cuore. Caroline Smith, volto noto della televisione italiana e amata personalità pubblica, ha recentemente suscitato preoccupazione tra i suoi fan a causa di un post pubblicato sul suo profilo social, è una figura di spicco nel mondo del ballo e oltre alla sua carriera artistica, è nota anche per il suo impegno nelle campagne di lotta contro il cancro al seno, malattia che ha affrontato personalmente con coraggio. Caroline, ha recentemente postato un messaggio che ha allarmato i suoi ammiratori, per il momento non c'è più nulla da fare, ho fatto il possibile, ma ora è finito davvero tutto. Queste parole hanno immediatamente fatto pensare al peggio, considerando la sua battaglia contro il cancro. Fortunatamente, si è presto scoperto che il riferimento era ben più leggero, la fine della sua vacanza in montagna. L'insegnante di danza, infatti, aveva trascorso alcuni giorni di relax in montagna insieme al marito, un periodo di pausa dalla routine quotidiana per ricaricare le energie. Ma, come accade per ogni vacanza, anche questa è giunta al termine e con il suo post Caroline Smith esprimeva soltanto il dispiacere per il ritorno alla vita di tutti i giorni. Il malinteso è stato quindi chiarito, con la natura sempre allegra e scherzosa di Caroline, portando sollievo ai suoi numerosi fan. E voi cosa ne pensate di Caroline? Se avete piacere, lasciatele un messaggio di affetto e saluto qui sotto nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.